Home or home? Qual è la differenza? Ciao, sono Monica di ImparaL'IngleseCommonica.com e nel breve video di oggi ti svelerò la differenza tra queste due parole. Home significa in italiano casa e quindi in inglese è un sinonimo di dwelling. Un esempio di frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere home sweet home, casa dolce casa. Home invece vuol dire affinare, quindi in inglese è un sinonimo di sharpen e un esempio di frase da ricordare per tenere a mente questa parola potrebbe essere practicing daily is a good way to hone your skills. Quindi fare pratica ogni giorno è un buon modo per affinare le tue abilità. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con una nuova coppia di Confusing Words.